Qualche tempo fa ho condiviso le mie osservazioni sul meme del parabrezza, degli insetti spiaccicati sul parabrezza, per dire che, per quanto importanti siano le esperienze dei singoli, anzi sono fondamentali in determinati studi scientifici, non si possono trarre conclusioni generali, almeno dal punto di vista scientifico, basandosi solo su quelle. Mi sembrava un argomento piuttosto moderato, anche piuttosto ragionevole. Ciò nonostante, molti utenti, soprattutto, devo dire, utenti senior, sono arrivati nei commenti, soprattutto su Facebook, ma in grande numero anche su TikTok, sorprendentemente, a dirmi, con toni a volte anche un po' paternalistici, forse pensando che sia più giovane di quanto non sono, che in realtà dovevo fidarmi di quegli utenti un po' più anziani che si ricordano, che si ricordano benissimo che sulle loro macchine c'erano più insetti spiaccicati un tempo rispetto ad adesso. Ma è proprio lì il punto divertente, perché non è vero, nel senso che moltissimi utenti, anzi addirittura forse la maggioranza, hanno detto il contrario, almeno nei commenti ai miei video, per quanto piccolo valore statistico possano avere. Ci sono quelli che dicono che ci sono meno insetti di vent'anni fa, ci sono quelli che dicono che ce ne sono di più. E allora come facciamo a trarre conclusioni da questo? Quindi, di nuovo, importantissime le esperienze personali, ma poi bisogna fare studi basati su un metodo che sia chiaro e replicabile, altrimenti si rimane nelle semplici impressioni. Detto questo, però, c'è un piccolo colpo di scena, nel senso che esiste davvero, dal punto di vista scientifico, il cosiddetto effetto del parabrezza. Sono stati fatti degli studi che riguardano, appunto, queste impressioni degli utenti ed effettivamente in un paio di studi, uno in Danimarca, uno in Inghilterra, si sono osservati meno insetti sui parabrezza nel corso del tempo. Un declino anche piuttosto importante. Questi sono dati comunque locali, sono studi abbastanza limitati, ma danno un trend generale che conferma quelle che poi erano le mie impressioni e le impressioni più o meno di tutta la comunità scientifica. Ossia che c'è una gravissima crisi della biodiversità in tutto il mondo e questa riguarda gli insetti, col piccolo problema che gli insetti, mediamente, sono molto poco studiati. Perché non li ama nessuno, perché non sono carismatici come animali più grandi e più belli e questo è un problema grosso con cui ci dovremo confrontare in futuro. Quindi, se anche non ci piacciono gli insetti, cominciamo ad abituarci al fatto che bisogna tutelarli, esattamente come altri animali, magari più belli, che ci sono più simpatici. In generale, ricordiamoci anche un'altra cosa, l'ecologia non è soltanto un termine che significa proteggere la natura. L'ecologia è soprattutto una scienza, la scienza che studia gli ecosistemi e gli ecosistemi funzionano quando tutte le specie che ne fanno parte interagiscono tra loro. Se si comincia a togliere qualche pezzettino di questo sistema, un po' come la torre del Jenga, finisce che a un certo punto ne hai tolti troppi e collassa tutto.